Gianfranco Loviagono, oggi i capigruppo del Consiglio Comunale e ovviamente di opposizione hanno presentato un'interpellanza. Secondo alcuni calcoli i consigli comunali serali costerebbero circa il 30% in più rispetto a quelli che invece si potrebbero fare la mattina. Sì, effettivamente abbiamo fatto dei calcoli e tutti i componenti della minoranza consigliare, abbiamo constatato che il Consiglio Comunale costa il 30% in meno se questo viene fatto la mattina. Quindi noi chiediamo, il 30% capite bene che è una cifra consistente perché la dobbiamo moltiplicare per tutti i consigli comunali e per tutto l'anno, quindi è una somma, un piccolo tesoretto che noi potremmo spendere per fare manutenzione alle scuole, che le scuole siano abbandonate e fatiscenti, per mettere l'illuminazione pubblica perché abbiamo un paese completamente al buio e per fare tutte quelle piccole manutenzioni che il paese necessita.